benvenuti in questo nuovo video vi vorrei far vedere dei nuovi acquisti che ho acquistato alla fiera la fiera di salerno ho preso questa femmina dalla mosaica linea femminile molto pulito una pesa un grande allevatore nella scelta questa femmina molto pulito come potete vedere e poi ho acquistato questo giallo pezzato come potete vedere che dovrò accoppiare con questa femmina pezzata e ora dovrò acquistare un altro giallo mosaico sempre di una femminile da accoppiare con o questa femmina o questa femmina i canali mi stanno tutti bene stanno bene in questo periodo sto utilizzando il pastoncino secco fra due tre settimane inizierò a mischiarlo secco e morbido farò cinquanta per cento e cinquanta per cento fino ad arrivare a solo pastoncino morbido come semi chido il misto semi però gli metto più scagliola dentro che deve più scagliola ma anche qua più scagliola i miei canali stanno bene ogni tanto gli do del basilico una fettina di mela l'insalata ve la sconsiglio e poi comunque volevo salutare un bravissimo allevatore di cluster e gialli mosaici che si chiama riccardo gabrielli è un mio amico potete andare a visitare il suo canale che si chiama lo di riccardo gabrielli e iscrivetevi il suo canale ecco spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e poi fra se arriviamo a 5 mi piace vi farò vedere qualche ricetta che uso io per i canarini ecco domani metterò anche un altro video però dell'allevamento del mio amico paolo che lui alleva i cluster e ve lo farò vedere ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti